Dopo settimane di polemiche e tensioni culminate anche nelle ire del governatore De Luca, si è dimesso dal suo incarico l'amministratore unico di Salerno Pulita, Raffaele Fiorillo. La società partecipata del comune, che si occupa della raccolta e gestione dei rifiuti, era finita nel mirino dell'ex sindaco sceriffo, il presidente della regione. Solo poche settimane fa, pesanti le accuse rivolte alla municipalizzata, rea di consegnare a residenti e turisti una città sporca. La comunicazione delle dimissioni è indirizzata direttamente al sindaco Vincenzo Napoli e agli organi di governo di Salerno. Accogliamo le dimissioni che ci sono state richieste, nel contempo però diamo atto a Raffaele Fiorillo di aver svolto una funzione importante, alta, complicata, aver portato a casa anche dei risultati ragguardevoli, di essere una persona di assoluta lealtà istituzionale, di grande momento morale, che però avverte la stanchezza di una gestione che è assolutamente complicata e che probabilmente ha bisogno di un balzo in avanti. Si guarda dunque al futuro e a chi potrà sostituire Fiorillo, mentre il primo cittadino promette passi avanti per eliminare il degrado da Salerno. Stiamo mettendo in atto una serie di provvedimenti e di azioni combinate, credo che in qualche modo già si avverta un miglioramento sensibile. Noi puntiamo ad un'azione sempre più calzante che responsabilizzi le parti, i dirigenti e gli operatori.